Il freddo, il freddo, il freddo, il freddo... Anche numericamente penso, perché nel secondo tempo abbiamo avuto altre tre o quattro ottime occasioni, oltre al gol della Gangi, quindi buona così. Un po' di deficit di confidizione sì, si è visto specialmente sul finale, però speriamo da martedì di poterci allenare con continuità sullo stesso campo e non girovagare per la provincia come abbiamo dovuto fare finora. Come ho detto, questa settimana ci siamo potuti allenare solo due volte, e i ragazzi dopo l'allenamento hanno fatto la dolce a ghiaccia, che non è proprio il massimo. Però ecco, grande grinta, grande cuore, c'è da mettere a posto alcune cosine, ma va più che bene, l'inizio buono.